Presidente, le problematiche del quartiere Corvetto, soprattutto della zona che si chiama Mazzini? Il quartiere Mazzini è un quartiere di case popolari e noi abbiamo la sede proprio nel cuore di questo quartiere, quindi la cooperativa La Strada che è nata 30 anni fa ha fatto una scelta di mettere le radici in questo quartiere e di dare una mano ai bisogni delle persone che lo vivono, soprattutto i giovani e le famiglie in generale, ma i giovani in particolare. Lei è originario proprio del quartiere Mazzini? Sì, ci sono cresciuto e ancora oggi ci vivo, quindi conosco bene la realtà. Oltre a essere Presidente della cooperativa La Strada e quindi svolgendo un lavoro sociale ho anche questa appartenenza. I problemi del quartiere, quali sono? In sintesi, è un quartiere come tutti i quartieri di case popolari, questo poi è uno dei più grossi di Milano, che hanno una concentrazione forte oggi di presenza di anziani soli, anche di molta immigrazione, di diverse etnie immigrati, quindi ci sono anche dei fenomeni abbastanza diffusi di microcriminalità, però come tutti i quartieri ci sono gli aspetti negativi o problematici, ma anche tanti aspetti positivi, c'è anche una grossa vivacità di presenza, di attività sociali, di volontariato, di gruppi, una parrocchia molto attiva, quindi è un quartiere come tutti i quartieri di Milano, penso io, con questa doppia faccia che convive. Negli ultimi mesi però è finito sulle pagine del giornale essenzialmente per gli sgomberi, per gli scontri, addirittura un'imboscata, una camionetta dei pompieri perfino. Sì, non solo negli ultimi mesi, è successo in questi ultimi anni parecchie volte, ma infatti sono manifestazioni un po' estreme di una difficoltà che c'è, non possiamo negarla, però ribadisco, a fianco a questi problemi che ci sono c'è anche tanta buona volontà, c'è tanta generosità che si vive, che si sperimenta tutti i giorni. Quante persone lavorano alla strada tra volontari e persone che assunte? Allora la strada, come dicevo, esiste da 30 anni, è cresciuta in questi anni e ha una settantina di operatori sociali, quindi prevalentemente educatori che lavorano con le persone che accogliamo e una cinquantina di volontari che ci danno una mano, quindi siamo un gruppo consistente. Un rapido elenco delle vostre attività che poi sono anche uscite dal quartiere. Noi abbiamo attività sia residenziali di accoglienza per una comunità per minori, tre case alloggio per mamme sole con bambini, una comunità per malattie di esse che è stata recentemente alluvionata, ahimè, e poi abbiamo diversi alloggi, una trentina per persone in grave emergenza abitativa. Poi abbiamo dei servizi invece diurni o specialistici, abbiamo un centro che cura bambini che hanno subito gravi maltrattamenti, trattamenti, abusi, abbiamo anche dei centri diurni, soprattutto per minori, centri diurni che accolgono minori che hanno problemi familiari, sociali e alcuni di questi hanno avuto problemi con la giustizia, quindi sono autori di reati. Poi abbiamo dei servizi territoriali, proprio nel quartiere Mazzini in particolare, per gli anziani, l'assistenza domiciliare ai minori e altri progetti ancora. Come sta in piedi un'associazione come La Strada? La strada sta in piedi in parte perché tanti servizi li abbiamo nel tempo convenzionati con gli enti pubblici, quindi abbiamo delle rette per le persone che accogliamo molto spesso, però questo non basta mai, non basta perché gli enti pubblici in questo momento in particolare tendono a ritirarsi dal punto di vista economico e grazie a Dio abbiamo però anche molta generosità, abbiamo dei benefattori che ci sostengono e poi lavoriamo molto su progetti anche con fondazioni bancarie e con altri interlocutori. C'è però un grosso bisogno anche di raccogliere donazioni e beneficenza perché oggi più che mai i servizi sociali rischiano di essere un po' lasciati in coda alle preoccupazioni anche dell'ente pubblico e di chi finanzia. E ha mai fatto il conto di quante persone assistete? Abbiamo provato a contarle, sono tante. Noi l'anno scorso per esempio abbiamo stimato che realisticamente, che abbiamo seguito, ma non in maniera occasionale, in maniera continuativa, 1.500 persone. Nei vostri progetti come entra anche lo sport? Il sport è sempre stato una delle attività che abbiamo cercato di curare. Poi negli ultimi due anni, grazie a questo rapporto molto bello con la Fondazione Milan, c'è stato questo salto di qualità. Con la Fondazione Milan abbiamo avuto la possibilità di utilizzare i campi del centro Wismara, che è il luogo dove si allenano tutte le giovanili del Milan, quindi un luogo molto bello, ben attrezzato. E questa non è una cosa irrilevante, perché crediamo molto nelle proposte fatte bene a questi ragazzi. Cioè i ragazzi rispondono se tu fai una proposta seria, se vedono che hanno delle occasioni vere, serie, allora si mettono in gioco di più. E questa è stata una grossa occasione per noi, quella del rapporto con la Fondazione Milan, che da due anni sostiene in particolare questo nostro progetto della scuola bottega, che è un percorso per il recupero di chi ha abbandonato la scuola dell'obbligo.